Buongiorno Siamo qui per dire un grazie al nostro Rigoberto Urai che veramente l'abbiamo disturbato non una volta ma 4-5 volte ma per ogni volta che è venuto è andato a correre e ha fatto una grande corsa l'ultimo poi non parliamo perché ha vinto il Giro del Piemonte e il Poglio della Lombardia adesso le chiediamo a lui cosa ne pensa di queste cene ma sicuramente l'abbiamo un po' disturbato Scrivi un po' Rigo, le ultime due gare si è venuto a mangiare, hai mangiato bene, com'è andato? È andato molto bene, ma non è nessun disturbo per me io sono molto contento di avere 4 amici perché ormai già ci conosciamo da tanto tempo e è vero quello che hai detto, sempre che veniamo qua a mangiare dopo vado a gareggiare e sempre sono belli i risultati e comunque questo deve continuare così perché ha stato anche bello quando io ero al Mondiale ho visto allora con la maglietta, quello è bello, hai capito? allora anche quando faccio il Giro, quando passo qua davanti ci sono diventa più un amistizia, più bello per me perché so che c'è gente dietro che mi guarda e che è dietro quando facciamo allenamento ormai in tutto quello ti viene più voglia di fare bene i risultati certo è quello che abbiamo detto l'ultima volta l'ultima volta giustamente che tanta gente ti vuol bene anche chi non è qui qui ci sono tanti giovani e c'è qualcuno che è la prima volta che viene addirittura abbiamo un grande ragazzino che si chiama Scalfi che è suo padre, è un corridore fortissimo è un amico di mio figlio oltretutto che le dispiace di non essere qui, non ti ha ancora incontrato ma un giorno verrà, ma dimmi un po' a parte i chilometri che hai fatto lì in una settimana quanti ne hai fatti? ma con il Gavardo l'ultima settimana? Giro dal Piemonte a Lombardia, lascia stare questi periodi il Mondiale 2,66 Piemonte 200 Giro dal Piemonte a Lombardia 2,51 e abbiamo visto che sei andato forte in tutte e tre queste cose, veramente ti sentivi bene ma ultimamente è un progetto dell'allenamento, vado più volentieri con i casari, facciamo i lavori, salire, facciamo i lavori prendiamo il caffè, questa cena vuol dire tanta ora per il prossimo anno, per il prossimo anno meter le cosiddetta la mia sine un